Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci prima mettendo mi piace a questo video e iscrivendoti al canale, grazie. Benvenuti, nostri cari follower. Quindi, tre terremoti consecutivi hanno colpito l'Italia stasera, venerdì 28 luglio 2023. Se venerdì notte tre terremoti colpiscono il nord Italia. Il primo terremoto, di circa 3,5 gradi della scala Richter, ha colpito l'Emilia-Romagna. Qualche minuto dopo, un altro terremoto nello stesso posto. La sua intensità era di circa 2,6 sulla scala Richter. Meno di un'ora dopo, un terzo sisma ha colpito anche l'Emilia-Romagna. La sua intensità era di circa 2,5 gradi sulla scala Richter. Così tre terremoti consecutivi hanno colpito l'Emilia-Romagna in meno di un'ora. Nello specifico, dalle ore 7 e mezza di sera alle 8 e mezza di sera. Fortunatamente, tutti questi terremoti sono stati lievi. Non ha causato alcun danno. Ma la prudenza è sempre necessaria. Perché i terremoti sono tornati prepotentemente nelle ultime ore in Italia. E qualsiasi altra notizia importante, vi informeremo in seguito. Infine, rimani in salute. Grazie. Grazie.